Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Quei due sul server 2 con il gioco più bello dei giochi brutti, ovvero Takedown Red Saber. Eh, da quanto tempo che non lo facevamo, eh? Da quando abbiamo vinto, perché abbiamo paura di non riuscire a replicare la... la vittoria. Quindi, allora, game mission, bomba disarma avevamo detto, no? Sì. E poi andiamo nella mappa. Abbiamo fatto... Ehm, cargo ship. Sì, e stavolta direi di fare quella che ci ha maggiormente dato filo da torcere. Tutte, a parte tutte. Non lo so, la piccionaia. Io farei la piccionaia. La piccionaia l'abbiamo vinta. No. Sì. La piccionaia quella a livelli con il buco al centro. No, quello era il cargo piccionaia. Quello era il cargo piccionaia. E dico, la piccionaia è quella che... La radar. No, vabbè, metti radar base che è divertente. Radar base, e sia. Dove entriamo? Dove ti pare? Quello di su. Quello di su. Ok. Ok, ok. Lancio. Match start. Perché io ce l'ho in inglese, qui invece lui fa corrispondenza. A me fa corrispondenza. Perché tu ce l'hai in inglese? Perché è più bello in inglese. Maledetto esterofilo che non sei altro. Eh no, è che non si sbaglia con l'inglese. Mi ricordo ancora Ghost Recon su PSP e gioco sopra quando morivi, bellissimo. Allora. Ok, siamo dentro. Siamo dentro, abbiamo 60 minuti per disarmare qualcosa come... Non lo so quante bombe. Ah! Ma cazzo, no, pensavo... Sei un pirla, ma sei. Pensavo non ci fosse, giuro che pensavo non ci fossero i suoni. Fatti ammazzare, è merda. Mi faccio ammazzare, sì. Figurati, sei un problema per loro, uccidermi. Che non sentivo niente. No, è che sei una merda e mi volevi soltanto uccidere. No, no, non sapevo nemmeno che mi stessi per passare davanti. Sì, sì, certo. C'è un tempismo che fa impressione. Allora, rimettiamo radar base, lanci. Quante bombe da... Ah, bomba quantità 1. Bomba quantità 1. Abbiamo una bomba da disarmare, quindi... Tango quantità medio A. Medio alta. Medio A. C'è scritto medio... Evita di ammazzarmi a suo giro, per cortesia. Che che è? Chi è che spara? Porca di una... Donna, ma quando sei... Io non lo so. Ero andato con la cosa di farmi uccidere, ma mi ha preceduto. Non mi ha fatto nemmeno parlare. Ci riusciremo ad almeno ammazzare un paio di persone. Non dico ta, un paio. Eh, ma perché siamo fuori allenamento. Ma non solo con Take Down, proprio con gli FPS in generale. No, non è vero. Dai. Questo è un FPS speciale. Ti giuro, io a parte su Blockstorm non sto giocando ad altri FPS. È come avere i bimbi speciali. Questo è un FPS speciale. Senti. Ha dei grossi problemi sto FPS. Allora, dov'hai tu? Vado dove non mi fai secco tu con... Ok, allora, cammina abbassato che non ti sentono. Dimmelo quando apri le porte. Perché? Perché? Perché se c'era uno sparava a me. Questo cazzo di animale, oh. Vai, cammina. Si sta cagando solo. Ma camminare così non gli fai... No! Ma cazzo mia. Ma... Dai. Io non... Dov'è? Guarda, guarda, guarda. Guarda quanto è imbecilo. Guarda... Un uomo ti sei fatto uccidere dal misto imbecille, mister imbecino. Vedi? Non ce la fa manca ammazzare. Fermati. Che cosa è successo? Fermo, fermo. Abbiamo una di quelle cose per Bugs and Wins che fa paura. Guarda, guarda. Non mi ammazza. Ha pure urlato, rilodi. Non mi ammazza. Ragazzi, no. Dopo i 20 minuti. Meraviglioso. Meraviglioso. Che bello che è sto gioco. Cioè, gli sono andato dietro. Lui niente. Non mi ha mai visto? Sicuro che non faranno il 2 di Takedown Red Saber. Ma secondo me su Kickstarter non gli daranno mai soldi. Gli l'hanno dato una volta, non fanno lo stesso sbaglio. Io credo che gli abbiamo dato una pericolosissima popolarità a questo gioco. Quindi potrebbe anche... È anche vero questo, è che noi siamo stati... Noi siamo responsabili di certe brutalità, ragazzi, che voi non avete idea. Comunque. Allora, affacciamoci in maniera tattica. L'ho visto uno, l'hai visto? O scendeva le scale? No, non scendeva le scale. Come il San Sebastiano. Non correre, che si affacciano in 5.000. Oddio! Oddio! Questo mi piglia. Devo... Devo shottarlo sul ginocchio. Ah! Aiutami, aiutami! No, è andato, è andato. So cagato sotto in diverse lingue. Gli ho sparato. Gli ho sparato un ginocchio. Grande. Aspetta, aspetta. Ma ho preso però, sono rosso. Non fa niente, tanto qua un colpo, due colpi. No! Ma che schifo. Bra, complimenti, se prima non c'avevo visto... Facciamo irruzione. Dove fa irruzione? È libero, libero, viene al piano di sopra. Ma mi chiude le porte in faccia. Dove sei? Sopra, sopra, sopra. Sate pieno di sopra. Madonna, mo ti spara un colpo in faccia. Stai calmo. Ci è mancato davvero poco. Ho ricollegato grazie al caschetto, eh. Io chiudo le porte dietro, che non si sa mai. Ok, apro qua. Non c'è niente. Aspetta, aspetta, fammi controllare. Io non vedo nulla. No, non c'è nessuno. Solo che io ho paura a facciarmi, perché qua succedono cose. Ok, non c'è nessuno. Possibile. Proviamo a salire su? Ci siamo praticamente inerpicati su una pizionaia. Potrebbero ucciderci tutti. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Bravo. Ok. Hai ammazzato? Bravo. Eccolo, eccolo. Ne ho visto uno che si è nascosto. Eh, lo vedo, è stato addietro. Mo' gli sparo al piede, lo ucciderò. L'hai preso? Sì, l'ho ucciso sul calcagno. È svenuto perché gli è sparato il piede. Eh, vabbè, stava perdendo un sacco di sangue. Motivo in più per cui avrebbe dovuto togliere il piede da lì, a un certo punto. Almeno dopo il terzo, quarto colpo. Allora, ok, qui... Dimmi che c'è la bomba da queste parti. Eh, vabbè, è troppo facile, però. Che palle. Allora, controlliamo bene tutti qui da qua sopra, va? Perché se c'è gente che si affaccia, noi li possiamo segare da qui. Eccolo. Eccolo. Oh, merda. Fatto. Ok. C'è... C'è stato un momento di... Di tensione, ragazzi, ma l'abbiamo risolto. Io guarderei anche giù, eh, oltre che su. C'è stato un momento di pensione. Ok. Ok, possibile che l'abbiamo... L'abbiamo tolti tutti quanti di mezzo? Non è possibile, secondo me. Allora, decidiamo il piano d'attacco. Dove andiamo? Il piano d'attacco è che dobbiamo trovare la bomba. E sta mappa è gigantesca, è un open world. Allora, secondo me, visto che... No, non ci credo. Ho saltato 40 centimetri, mi sono distrutto, sono quasi morto. Fermati. Guarda! Madonna, che merda! Dai, dai, fai, fai, fai. Vieni giù. Oh, non è successo niente. Io mi sono fregato le ginocchia due volte. Vabbè, allora, continuiamo. Secondo me dobbiamo superare R03 per andare a H01. Chi? H01. Va bene. Allora, R03... Dove cazzo lo vedi? Oh, cazzo, R03 è grosso, eh. Ah, ok, per andare a H0. Perfetto, ok, ho capito. Allora, passiamo di qua sotto. Vieni. Oh, non mi fa spaventare. Ho sentito una voce. Oh, merda! Vieni, vieni. No, no. No, no, non muore. È imbattibile. Oh, è muore. Ma dai! No, non muore. Donna, io ho sparato un caricatore intero. È andato giù alla fine, però, eh. Adesso lo sai. Chi è? Ma sei tu. No, no. Senti, vieni, cazzo. Ho cresciuto. Tu non sai che cosa è successo. Tu non mi... Io pensavo... Ah! È quello che... Oh, Dio, tu non sai che cosa è successo. Tu non sai che cosa è successo. Mi passa questo a marcia indietro e sale le scale senza sparare. Ho detto, ma sei tu. Tu stavi da un'altra parte. Sale le scale e mi spara. Fantastico. Oddio, vabbè. Io direi che come primissimo ritorno può bastare perché troppe emozioni. No, 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 troppo. Però io mi sto sentimale. Comunque, grazie ragazzi dell'attenzione. Ci vediamo al prossimo Takedown Red Saber.